Padre, credo che dovrò separarmi da te Ma che vai dicendo? Il tuo posto è qui Ho sentito dire che a Fonopoli cercano un coccodrillo in grado di ospitare spettacoli, moda, sport, cultura e tempo libero Devo andare E sia! Fonopoli! Hai vinto! Avrai il tuo coccodrillo E tu invia il tuo contributo all'associazione culturale Fonopoli Conto corrente numero 12771-38 presso Banca di Roma, Agenzia 122 Ci vediamo a Fonopoli!